Sabato 16 novembre, appuntamento al Teatro della Misericordia con la giornata europea dello spettatore. È un programma molto molto ricco, iniziamo alle 5 con la presentazione del libro di Lucia Franchi e Luca Ricci. Lo spettatore è un visionario che racconta questa grande avventura, questa grande invenzione che da molti anni caratterizza, ha caratterizzato Kilowatt Festival. Alle 18 invece i nostri visionari, i nostri spettatori attivi saranno in rete via social con almeno altri 30 gruppi di spettatori visionari in tutta Europa e si confronteranno insieme su delle tematiche appunto legate al teatro e al ruolo dello spettatore nell'età contemporanea. Tutte delle tematiche quest'anno intorno al tema della libertà. Poi ci sarà un aperitivo curato dal Caffè delle Stanze di Sansepolcro e poi alla sera alle 21 all'interno della nostra rassegna Kilowatt tutto l'anno vedremo il nuovo lavoro di Emanuele Aldrovandi dal titolo Farfallo, una produzione dell'Ert, del Teatro dell'Emilia Romagna e del Teatro dell'Elfo di Milano. È un testo molto interessante su due figure femminili che si confrontano in maniera abbastanza misteriosa e che sviscerà appunto il ruolo della donna. Emanuele Aldrovandi è uno dei drammaturghi più conosciuti tra i giovani, vincitore di diversi premi. Quest'anno questo testo ha vinto il premio Istro come miglior testo, quindi vi invitiamo al Teatro alla Misericordia a Sansepolcro.